Come ci si sente essere fuori? Come on! Non tornerò più dentro, Billy. Mai più. Per nessuno. Non farti beccare, allora. Ho un lavoro per te. Ci sai fare con le mani. Tipo con gli attrezzi. L'avrai vista in qualche film. Sono appostati fuori casa mia. I paparazzi. A volte scavalcano il muro. Riusciresti a tenerli lontani dalla mia proprietà? Puoi proteggermi? Sì. Sono io, ti ricordi. Chi ti ha dato il numero? Credi che ti lascerò a piede libero su questo pianeta? Gli devi un favore. Non gli devo niente. Sei un gangster. Fai parte della mia azienda. Posso fare altre cose. Forse è quello che voglio. Se dovessi innamorarmi di te, che cosa faresti? Tutto. Sei complice adesso. È un po' come essere sposati. È per sempre. Sa qualcosa di mia sorella. Lo sanno tutti di tua sorella. Delle persone che mi stanno cercando potrebbero farti del male. Ma sei impazzito? Gantt ucciderà tutti quanti. Tutti quelli a cui vuoi bene. Voglio che te ne vai finché non risolvo le cose. E tu vieni con me? Sì, certo. Ma prima devo finire un lavoro. Meglio che te ne vai da Londra. Non preoccuparti. Potremmo fare grandi cose. La gente si ricorderebbe di noi. Non ti conviene che io sia un gangster? Non converrebbe a nessuno perché non riuscirei più a fermarmi. E tu saresti il primo a morire. E tu saresti il primo a morire.